Iniziamo a guardare, vediamo se partiamo Tanto direi che siamo live su Twitch ragazzi Quindi quando vedrete questo video su YouTube Mi raccomando lasciate like perché dobbiamo arrivare a 30 E vi ricordo che appena torno con il computer mio ufficiale Ricominciamo a fare le live ragazzi Niente, noi intanto finiamo l'evento vecchio di PuniPuni Direi che potremmo andare anche a cavolo Volevo fare l'ultima sling prima del nuovo evento Potremmo iniziare fra 9 minuti Adesso magari arrivano tutti quanti piano piano Quando ci siete ditemi come va la live, se lagga, l'audio funziona, non funziona Urra! Dobbiamo caricare Sperando che arrivino le notifiche Che non faccia davvero come YouTube Pure Twitch Quello non era un booster? Quello mi sa che è un booster Non lo ricordo più Dopo aver fatto prendere a miliardi di persone Lo zeta in questo evento ragazzi Spettacolo Forse è troppo alto il volume Forse è troppo troppo alto il volume Speriamo che spawni tutto quanto Io non ho neanche portato su loro Niente Dai, non farmi sudare l'ultima farmata Tra virgolette Non abbiamo le notifiche per oggi Non l'abbiamo messa Non l'ho fatta in tempo Perché non sono con il mio computer Quindi È tutto un po' di fortuna oggi Però se succede qualcosa Bella jackpot Bene Se succede qualcosa Scrivetemi in chat Io dovrei riuscire a vederlo L'ultima sling Per favore Dimmi che esce subito Senza problemi Direi che ci sta Vai Vai, vai ad avvisare tutti quanti Che abbiamo startato Si sente bene? Si sente bene? Fatemi sapere Perché forse Forse arriva domani Il pc nuovo Adesso sono con Con il portatile di mio padre Parapapapa Parapapapa Secondo Twitch Siamo entrati in live adesso Molto bene Oh Ok Andiamo così Va bene Abbiamo il team giusto Il team set Se non va più o meno Uè Bella Mary Glenn Tutto a posto? Si vede bene? Si sente bene? Almeno dimmelo te Speriamo Che non ci siano grossi problemi Grossi intoppi Aspetta Adesso ti leggo Adesso leggo Ma allora dovrebbe L'avevo quasi saltato Dovrebbe farmare Dovrebbe essere un evento Dove si farma Infatti io ho messo Ne ho visti dei giochi Ma come puni puni Ciao a Dima Bella Dio comunque Eh porca miseria Quando lo facciamo rotolare un po' Si vede bene Molto bene Sì Sì Stiamo facendo L'ultima L'ultima sling Proviamo di riuscire a farmare Ancora un po' Bella Frank Michi Sanci Bella Games Vada lì Tutto bene ragazze Tutto bene Cosa Com'è questo? Per favore Ok Michi Sanci Non dobbiamo L'ultimo Dai guarda Per 400 Non ce la fa ammazzare Ciao Nicola Benvenuti a tutti Mi raccomando eh Poi quando uscirà Il video su Su Youtube Sai che questa qua La missiamo? Uff Non ci credo E' rimbalzato dall'altra parte Ma come ha fatto a rimbalzare Dall'altra parte? No No E mo? E mo? Non farmiamo Guarda Per 400 399 Non ci voglio credere Non ci voglio credere Che sfortuna Andiamo di là Abbiamo perso tipo 50 punte Abbiamo perso Perché la gente lavora male Bene Beh ma è normale È normale che sia così Dio È normale No Prova ad entrare con il secondo Busy Intanto 4 minuti Perché non è messo Perché non è messo Oh è bella pepe Chi bin? No Perché era un team così Un team prova E qui non è neanche fatto tutti i log Come nell'altro L'altro ho perso il log Non so quando Mi sa che mi sei bugato Vabbè ma è normale È normale Dio La gente non ci sta Non ci sta dentro Con la testa Paparapappa Andiamo di 50 Chi se ne frega La gente non sta bene Non sta bene con la capa Domani sono dalle vostre parti Che vado No dopo domani Allora speriamo che davvero Si farmi Spero anche davvero si farmi Nel nuovo evento Dobbiamo accendere la luce? C'è poca luce? Ah Che culo Che Poi sei proprio fortunato C'è poca luce Non so perché c'è poca luce oggi Allora noi siamo pronti con il pennino Ok Dobbiamo farci Ci facciamo già il team Torniamo dal primario E vado mercoledì Devo andare in montagna A fare dei lavori Evento scatole Sì ma speriamo che non sia un nuovo evento Dove non si farma Io spero sempre in questo Forse da tre ore nel gruppo vedrei un doppio Ah speriamo Perché tra tre ore? Per quello dell'impossible Lo prenderai già Bin Cosa mi ha dato? Cosa mi ha dato? Non ci ho neanche fatto caso Punti Bello Un coin Fantastico E' andato proprio bene E' andato proprio bene Eh io devo sperare Uh qua abbiamo da riscattare Uno yokai Io devo sperare Di trovare tutti Tutti i bonus Perché se no Mi sa che non lo prendo Sto doppio z Ne abbiamo solo uno? Ma adesso ne abbiamo due Ragazzi due minuti Due minuti Allora ho detto il messaggio Quello Lunghissimo Che avete mandato all'inizio Non so perché Non avevo aperto il gioco E mi è andato sul gioco E mi sono dicendo Che non l'ho ancora Mi sembra strano Prova a disinstallarlo Reinstallarlo Farò da capo Sei sicuro Luca? Non entra Non entra Nell'account Da inizio 20 Cioè no Forse questo evento L'ha proprio saltato L'ha proprio saltato Eh vabbè Metodico a fare Non ci possiamo fare niente Un minuto Iniziamo ad andare Alla schermata principale Proprio Proprio quello Dio Proprio quello L'unica cosa è che Se qualcuno si iscrive Lo dubito O se qualcuno Fa una donazione Quale cosa Non abbiamo Non abbiamo gli avvisi Proprio zero Perché non sono sul mio Non sono sul mio portatile Che l'ho venduto L'ho venduto Un'oretta e mezza fa Però Però Attenzione Sì all'antica Come se fosse Il nostro primo giorno Oggi il nostro primo giorno Stiamo qua Chiacchieriamo un minuto Tanto ragazzi Quest'estate cosa fate Fatemi sognare Ma si vede Il 1080 A parte che io Provo ad accendere la luce Vediamo un po' Prendo fuoco No dai va bene Il problema Che è un tripla z Porca miseria Porca miseria Hai un tripla z Massimo Setteventi Piuttosto che nere Mi è piuttosto Ragazzi È partito Nuovo evento La musichetta La musichetta si sente In sottofondo Lontanissimo Ah Qua proprio Veramente Allora Questo è guardabile Nella piscina E vengo da te A fare Questo qua è guardabile Mi piace Non so come si chiama Mi piace C'è la Niambo Nella niambo Cosa abbiamo Andiamo a vedere Nella niambo Doppio z È sempre il solito No? Sì Sempre il solito Torniamo giù Vediamo un po' È veramente Brutto Questo Mamma mia Potrei saltarlo Sto evento È inguardabile Potrei non slottare Neanche Doppio z Nella slot Andiamo a vedere Qui siamo sempre Accademia Che secondo me Esce tra un mesetto Io ve lo dico Un mesetto Lo fanno uscire Lo cacciano Vediamo Boom Yes Bam Andiamo a vedere qua Se ci danno qualcosa di nuovo Qualcuna informazione Questo è quello che abbiamo visto prima Ok sì Questo è quello che abbiamo visto prima Qua Ci fa vedere la slot Doppio z Nella slot Cosa fa? Vediamo Wow Bello No bello Forse un po' troppo bello E? Ah ok Hanno aggiunto sti Bello 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 Belli questi yokai Belli Pro Proprio belli Proprio belli Belli forte A 05 A doppio z Proprio mi viene voglia Di non giocarlo Questo evento Cioè solo perché Si farma Lo faccio Sì Puoi dirlo Forse Forse lo z È più forte Vediamo un po' Ok Fever E poi E poi E Bello Bello Proprio mi hai fatto voglia di prenderlo sto z Attenzione Ah Ok Proprio bello Nuovi yokai Eh Proprio Yokai Yokai belli Fantastico Cos'è sta roba qua Vabbè O chi se ne frega Facciamoci il team Per farmare grosso E Forse vi farò Forse vi farò Boh non lo so Il classico video Su dove si può farmare Allora No Sbaglio sempre Grande bin Grande bin Allora Mettiamo lui Mettiamo lui Mettiamo lui Mettiamo lui Mettiamo lei Direi che possiamo andare così Che Mamma mia Io spero solo si possa farmare Decentemente Perché se no È proprio Brutto Proprio brutto brutto Bruciare il tablet Per che cosa Si Ah ma è così Ok va bene Non devo fare l'or Non devo fare l'or Non devo mettere l'or Però forse si No mettiamo Mettiamo il nostro amico Takao Mettiamo Takao Zero punti Si si Dobbiamo trovare Dobbiamo trovare Il metodo migliore Come al solito Vi ricordo che Nell'ultimo Si farmava Nell'impossible Cioè Impossible Tra virgolette Caro Takao Dove sei Dove sei Takao Dove sei andato Ecco ti qua Ti metto lì Così siamo a posto Tutto a posto A ferma A ferma A ferma Agosto Nella Niambo Vediamo se Se mettono Vediamo se mettono Un doppio z Nella Niambo Proprio quello Cos'è che era A tredici Takao Ho sbagliato Ma Dai Non me li linka Più neanche Ma se la metto Qua di fianco Lo scoppia Almeno questo Niente Non lo scoppia Neanche Porca miseria Devo mettere No non devo usare lui Ma è che abbiamo perso Tipo due punti Cosa è stato Hai rotto tutto Vabbè fa niente Non lo cambia neanche il team Dai ragazzi Chi se ne frega No è Monica Che ha deciso Di rompere qualcosa Sì dovrei Mary Glenn Dovrei Ma Guardami Ma che poi Basta che cambio Basta che cambio Il coso qua Il coso Rosso Ma non c'ho Sbatti Basta che fai così Porti Takao A 13 Inizia Poi fai così Ammazzi lui Ciao Moccio Uh Grazie per il ride Stellina Eh che non c'ho Non c'ho gli alert Perché sai Io non sono sul mio computer Cosa stavate facendo Uè grazie per il follo Tord Bloxy Grazie per il follo Cosa stavate facendo Di bello Stellina Eravate su Animali crostini Eravate su Valorant Dunque vi ringrazio Bravi Bra Bravo Vi stai insegnando bene Ui Anto Pronto per domani Se arriva tutto Anto Facciamo un disastro Facevate orgioni Io sono Io sono Però spero Spero che arrivi tutto Speriamo Perché se arriva mercoledì Siamo fregati ragazzi Siamo fregatissimi Io sono quasi tentato Ad andare dritto Alla fine Eh si Sono senza cuffie Non sembro io Vero Questi come sono già Crasciuti i capelli Incredibile Bella Queen In Off boxes Benvenuta Grazie per il follo Sì sì Ti voleva chiedere Cosa Cosa Vorresti mangiare Da queste parti Cosa dobbiamo farti Da mangiare Prego 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 Uh Facciamo lui Stupiamo Intanto dobbiamo Dobbiamo mangiare A un orario decente Oh che bello che è Non ti scrive nessuno Non scrive nessuno Poi quando Attacchi la live BAM Notifica manetta Allucinante Mi dispiace che non c'ho le Non c'ho gli alert Ragazzi Mi dispiace un sacco Che siamo senza alert Oggi Allora Tord È un evento Dove si Si ferma Si si ferma Si ferma Molto bene Perché Sono le scatole Che scendono Quindi autoclicker A manetta Facendo anche te Tom Bene bene No non mandarmene Non mandarmene Perché poi va tutto Su youtube Non abbiamo l'alouette Perché non sono Sul mio computer E quindi È aggiornato Fino alle 13 E non ho fatto in tempo A mettere tutto Semplicemente Tecnicamente Domani Dovremmo Tornare Con Il mio ufficiale Però dovrò Dovrò fare mille robe Semplicemente per questo Ho avuto paura Si è visto No dai ragazzi Fate i bravi Fate i bravi Fate i bravi Giochi a destiny 2 Giocavo a destiny 2 Giocavo a destiny 2 Il problema è che Questo portatile Non so perché Quando tocchi Si muove tutto quanto L'altro no Mi sono spaventato Parecchio 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 Sai come è? Non si sa mai Dai dai Che dobbiamo arrivare Al 13 Iniziamo a pullare Volevo arrivare Porca miseria 100k Non ce l'abbiamo fatta Perché ha aiutato Tutti quanti Ragazzi A quanti A quanti abbiamo fatto Prenderlo a z Dima A un botto Adesso inizia A vibrare La manetta Ehi Calmi Calmi Fate i bravi Fate i bravi Fate i bravi Ma perché poi Non stagionano Neanche le notifiche Rimane tipo L'ultima La penultima Dai dai Su vai avanti Vai avanti Dobbiamo trovare Lo stage giusto Per l'autoclicker Ragazze Team giusto Stage giusto Io direi anche Già di mettere Cosa Facciamo così Guarda Così facciamo Un punticino in più Due punticini in più Di che Di che tribù è Dovrebbe essere Di questa tribù Yes Yes Pium piu Così facciamo Un po' più dei punti Pochi però Iniziamo Ad entrare Nell'ottica Del farming Secondo me Quando esce Il 5 Ragazzi Io che watch 5 A luglio Ad agosto Ad agosto Perché abbiamo detto Che c'è stato Il covid E allora Ci prendiamo un po' di tempo Per finire le traduzioni Eh boh Non lo so Poche Dipende Dipende da quelli che hai Non posso dirti Vi mandati messaggi d'amore Cioè per esempio Stonoco È bello Per quando vai a farmare Perché ti dà più punti A me piace Takao Perché è veloce Dipende Dipende Da quello che devi fare Poche Dipende Dipende Da tante 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 cose Guarda Da 4 in più Quindi Iniziamo Fa il bravo Fa il bravo Fa il bravo Stella Scrivimi su telegram Scrivimi su telegram Come stacchi ora Dove vai No è perché Su Su OBS Tutti con lo stesso colore E quindi Ti ho persa Cos'è che mi hai scritto O magari mi hai scritto Mentre ero qua Che stavo giocando E l'ho perduto Sì Dovrei 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 darglielo Il passivo Pensavo di ammazzarlo Antonio Un botto Piom 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 Però teoricamente Sto portatile Dovrebbe supportarmi Anche la scheda D'acquisizione Ci mette tipo 15 minuti Ad aprire Una qualsiasi cosa Guarda lì Guarda lì Ma scusa Ma adesso senza musica Come facciamo Come facciamo senza musica Su twitch Cos'è che mi aveva scritto Stella Che ti devo mandare la foto Ti mando quella foto lì Stellina Ah mi ha chiesto Come sto Ah sto bene Sto bene Ho una certa Ho avuto paura Che il Che il ragazzo Del Come si dice Del Del portatile Non venisse Io avessi speso I soldi Senza rientrarci Brutta storia No però poi è arrivato Simpatico Bravo ragazzo Magari un giorno Ci farò Una live insieme Perché anche lui È uno streamer Wow Meno male Che l'abbiamo Chiappato Pio 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 In che senso Moccio No ha fatto l'affare Ha fatto Non lascia stare Va Sì 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 No ha fatto l'affare Per 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 quello che l'ho venduto Ha fatto l'affare Mi piange il cuore Ma dobbiamo vedere Domani Se arriva tutto quanto Roba grossa Era un passo Dalla 2080 Super Solo che costava 200 euro Di troppo No no Alla fine Lì ho scoperto Perché Moccio Avevo sbagliato io Con le impostazioni Era Un errore mio Sì Come se tenere Come se tenere I goku yokai Era C'era l'evento Tord C'era C'era l'evento Mi sa che erano Erano alcuni Nell'impossible E alcuni Nella slot Forse quasi tutti Nella slot Non mi ricordo Passato troppo tempo Quanti Quanti pezzi Ne abbiamo fatti qua Uno solo No no 1350 Pagato 2120 Arrivato il 23 Di marzo Dell'anno scorso Eh Scusami 800 euro In un anno Senza senso Colpa di E-Price Che ha abbassato Il prezzo In offerta Dove vai Frank Dove vai Frank Non ci abbandonare Non si fa così Dai ma non dovevi ammazzarlo Quello lì Rompete Mamma mia Al pelo Eh Vedi te Ma il portatile Tu Dopo due anni Vedi tu Ma io sono sfortunato Skynet Questo è Skynet Ragazzi Senza senso Però Però non mi dispiace Che questo Non laghi Tanta roba Tanta roba Tanta roba Va bene Sai che veramente Mi piangeva il cuore Mi piangeva il cuore Però è un bravo ragazzo Quindi Quindi ce ne sono contento Che l'abbia preso lui Che secondo me Lo tratta bene Cioè sono quasi Certo che lo tratterà bene Perché l'ho messa qua Questa Così Ti tiro le testate Però mi si sente Un po' meglio Dovrò ricambiare Tutta la postazione Rifare tutto quanto Per il fesso Ah non lo so Forse Forse Sì Guarda che i rog Sono tanta roba Cioè mi sono sempre Trovato bene Beh ma quindi Stellina Cosa stavate facendo Dalla tua parte Ma tu sei piena Te l'ho detto Tu sei piena di grana Forse me l'hai scritto Ma non l'ho letto Sorry Non perché non ti voglio bene Anzi Dopo tutto quello Che c'è stato tra di noi Però non dirla Moccio Pia 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 Questo era il 12 O il 13 Ah no era il 12 I wanna benz Attenzione Che bello Il calzino che dicevi te Non devo dirlo Eh vabbè Ma moce moce Gli diciamo le cose Non capisco Perché da questa parte È lo stesso colore di dio E da quest'altra Sei arancione Boh Non lo so È proprio lui Ma come vuole venire a Milano No ma Viene a Milano Perché è più comoda Tu scendi Dalle stelle Quei pattini a rotelle No Non era così Ma vuole trasferirsi Proprio a Milano Come ha fatto a non morire Quello Vabbè ma si può venire a Bergamo Poi Quello è vero Che più bello è vero Dice che muore Speriamo di no Ok Andiamo in Fever Andiamo in Fever Arrivo eh Adesso arrivo a leggere Eh ma secondo me La metteranno Stellina Vedrai che la metteranno Forse Forse la più grossa È quella di Prato Di Chinatown No No Però forse è la comunità Più grande Milano è immensa Cioè senza senso Ok Non ti baggare Non ti baggare Adesso ragazzi si slotta Salutiamo un po' Se ci fosse Marco In live Che dice Ok adesso trovi subito Lo Z Come ha fatto l'altra volta Che me l'ha fatto trovare Nella rossa Nella gascia rossa 25 Buono Mamma mia Stiamo già farmando bene Sono contento Andiamo di là Z Z nella rossa Vedi Così ha detto Andiamo a slotare Ah Vuoi andare lì Ma mandaci Facci venire Moccio pure Marco Taggalo Taggalo Abbiamo bisogno di te Taggalo Oh attenzione Cos'è che era? Andiamo a slotare ragazzi Sicuramente non qua Ma qua 05 Il doppio Z Adesso Adesso Mentre slotto No ragazzi Fate bravi E' importante adesso Mentre slotto Dima E' trovato 2 SS uguali Ma quelli nuovi Dima Io vado Vado adesso Vai Boom 4 e mezzo Dati Dati così Per favore Dorata c'è Ok Buono Ogni mezz'ora Incredibile Dai dai Su Su Segreto Altro segreto Doppio segreto Doppio Z Doppio Z Ragazzi Boom Alla prima Incredibile Mai vista una roba del genere Fuse sta roba Brutto forte Brutto forte Triple S brutto Mo mama Mo mama No pio Z Qui Chiamalo Nada Nada Che poi devo ancora Vedere bene Quali sono i bonus Che ci sono Che danno Capito Oh ma Dima Ma i 9000 punti Non li danno Come si sblocca Lo steggi segreto Uh 4 Attenzione No Non sono andato Al tempio No Cosa serve Andare al tempio A niente Stelle Ah si Stelle Segreti Qua Boom Altro segreto Tra poco Attenzione Io parto dal centro Doppio Z Nada Sotto No tordo Perché me le voglio gustare Me le voglio gustare Ok niente S Boom Eccolo lì Eccolo lì Altro clown Mamma Sono veramente Inguardabili Sono veramente Inguardabili Questi vanno su Su Instagram Dritto per dritto Sono loro che hanno Il bonus Oh Mamma mia Dio Guardalo lì Il tuo Yookai preferito Guardalo lì Yes Anche te nella rossa Però c'ha C'ha le ciappe In mano Ha due ciapponi Dopo te lo manda Dopo te lo manda Quindi ci manca Cos'è che ci manca Vediamo un attimo Cosa ci manca Allora Abbiamo Ci manca Un triple S E basta Un triple S E il doppio Z Ok Un triple S E il doppio Z Oh yeah Solo uno Attenzione Nella oro Dici Dici che Nella oro Secondo me Questa è vuota Ragazzi Questa è vuota Non c'è niente di vuoto Bella Ale T'ha posto Io tutto bene Te Niente Ah comunque un doppio S Non male Ci sta Adesso ne apriamo ancora Magari un paio Ancora un paio E poi andiamo avanti Con l'evento La Momama Momama Comunque dovrebbero Velocizzare un attimo La Cioè qua Se li va Vabbè niente Lasciamo perdere Lasciamo perdere Segreti che arrivano Segreti L'hai trovato Ale Buono Allora andiamo qua L'ho già portato al 2 Un altro doppio S Non ci sarà mai Qualcosa di buono qua Già lo so È infatti Un A È infatti Sì sì Hanno messo a per tutto L'A in alto a destra Facciamo l'ultima Andiamo avanti con Con il nuovo Con il nuovo piano Con il nuovo stage Mi sembra strano Che non abbiamo trovato Full oro Cioè full Full rosse Sembra molto strano Dai fammi trovare qualcosa qua Per favore Portami Nel doverne cercare Solo uno Per favore Dai Doppio Z Doppio Z Nada Mastic Maledetto Mastic Andiamo avanti Dopo continuiamo Abbiamo fatto Comunque 20k Abbiamo slottato Dai per ora bene Per ora bene Così tanti Così tante vite Ale Eh boh Una certa Inizia a comprarle Una certa Ci vuole poco Anzi è da un po' Che non le compro Tra l'altro A quanto è Rinne a 13 Giusto Vai Andiamo Easy Veloce 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 Andiamo avanti Voglio slottare Voglio trovarlo Sto 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 Fortissimo Tra l'altro Fortissimo Dai Ma potevi rompere pure quella Ma non c'è qualche altro Yokai Vecchio Che ha La possibilità Di dare più punti No eh Volevo mettere un altro Come sto Noco E' 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 Per quello che ho potuto Vedere E' E' Inguardabile Pensi che sia Sono Noco Eh Anche secondo me Ma perché Perché Io Niente Linka Linka un po' Dove vuoi tu Già che ci sei Vole nervose Eh ma quando Non è nervoso È nervoso Non ci può fare niente Dio Potrei usare L'ultimo Z Potrei si Wow Wow Negatina abbiamo preso Porca miseria Ci mancava Come facciamo senza Negatina Potrei mettere comodo Qua perché Quanti livelli ci sono 100 300 9000 Mi si è bloccato il collo Wop Ai 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 Mi sembra stanno Che non abbiamo portato Già al 7 Questa Dai veloci Veloci Senza Senza Comunque mi sa che Domani notte Ma va Che c'è Saranno 40 38 Non so Mi sa che La prossima notte Quando esce Il DLC Io sarò live Speriamo Speriamo di riuscire a farlo Cos'è A mezzanotte Un minuto Parte Che bello L'abbiamo già Che ricaricato Boh Fai cos'è Gli esili Pokémon No Non di Puni Puni Quello di Puni Puni E oggi Pensate se Un giorno Metteranno Gli aggiornamenti Di Puni Puni A pagamento Disastro 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 Come si farebbe Non ci giocherebbe più nessuno Forse solo i giapponesi In centro In centro Vedi che Pum Beh che già ogni tanto mettono Gli yokai a pagamento Brutta storia Brutta storia Brutta Brutta storia Sì davvero Ma a parte che secondo me non ci sono più neanche i developer Si sono Si sono licenziati perché Dopo l'ultimo evento pacco che hanno fatto Ultimo Tutti un po' pacco Allora carica lui Vai andiamo avanti Brutta storia Io però Vorrei fare cos'è Che ne scende un altro Prima che schiatte Non fa niente Chi se ne frega Per un punto in più Pio 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 Bella Frank Ci sentiamo E bravo Alla prossima Senza offesa Ma quanto dura ancora sta live Senza offesa Dio come Le hai viste le partite Cosa ne pensi Erano da giocare Dima Mi raccomando Io ci credo Prepari già a soffrire Ma scusa ma Ne avevi 16k te Ne avevi già sfruttato tutto Ma non è ancora sfruttato Ho capito che è già sfruttato Comunque non ti sei perso niente Dio Secondo me non dovevano proprio giocarle Senza senso Senza senso Come fai Come fai A 17k Ok Ci sta No è vero Ma infatti l'ha detto Che l'hanno fatto ripartire Solo per i soldi Nel campionato Senza offesa Senza offesa Era per i diritti Era per i diritti Perché comunque Che ne so Le varie tv I diritti Li hanno pagati E quindi Pretendono Che venga a giocare Boh Ne voglio vedere L'NBA Come faranno Tra un mese L'NBA Ti piace Anche dietro Dietro c'è la stessa stampa Non so se ti vede bene il colore Ma è tipo Latte menta il colore Io ho gli schermi molto chiari In lista portatile Eh io ho dei problemi con Vans Ragazzi Ho dei grossi problemi Hai trovato i due pezzi Dello scorso evento Che sfiga Io ho sentito Che stavano a A Disney World Stavano tutti a Disney World E giocavano tutte Tutte le squadre Che ovviamente Sono Come si dice Che possono giocare Perché non ci saranno tutte Che è successo Stellina Welcome back Queen of boxes A Orlando Tanto credo che Jason Williams Vivi ancora lì Ad Orlando Sono già fuori Eh no ma è giusto No allora Io ho letto Ci avevo sentito Che Tu erano tutte A favore Tranne Dallas Se non sbaglio Ma non ne sono sicuro Ce n'era una Non a favore Ti sei fatta male Stellina Che cosa sei fatta? Ti sei strappata al muscolo Facendo che cosa? Facendo che cosa? Dimmelo Dimmelo Uè bella metal Aiaiai Brutta storia Brutta storia Ma poi a code c'è più giocato Stellina Avresti dovuto So che mi dice di no Avresti dovuto giocarci Su Gran Turismo 7 Bah Io non lo so Non lo so se mi ha convinto Gran Turismo 7 Ragazzi Perché a sto Neanche a sto giro ci saranno i danni Secondo me Camminando Ma come cacchio Ma come cacchio è fatto? Come cacchio cammino Più che altro Dai ma mi puoi mettere lì Che hai giusti Per favore Ah vai così Eh io Hai ragione Potrei metterli Gli yokai nuovi Per già tirarli su Hai ragione Adesso li metto Non l'avevo neanche ammazzata Hai capito Ma sarebbe Sarebbe tanta roba qui Ma quello che dicevo io Che su Animal Crossing Cosa che dovrebbero fare? Creare un'isola Una regione Dove andare a giocare online E fare Real life Capito? Vai lì Fai tipo un roleplay Vuoi Che ne so Fare la pescatrice E fai la pescatrice Poi vendi i pesci E ti paghi la casa Così Così si fa Vedi? Io sarei Gli avrei già istinti tutti Dio Allora Togli questo Eh Santo Deo Santo Deo Fammi vedere gli ultimi E ci mettiamo Ci mettiamo Loro due Qua Eh? Ah si Driberto Il solo è l'unico Il solo è l'unico Il cavallo Come si chiama? Furio Comunque ho visto Stellina che ho beccato Che non ci hai giocato Maledetta Avresti dovuto L'altra sera Poi ne abbiamo vinta una Spettacolo Cioè Io ho fatto Undici kill Tipo Mirko 8 Ste 6 Una roba del genere Cioè Roba senza senso Allora Boom Boom Carica Tra l'altro Mi sa che Mirko Ricomincia Pure a streamare Allora Che che mi cariche Carichi lui Escanor Hai detto Escanor Cosa sta dicendo? Nel 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 Fu a regnare In quel periodo La Francia Ma perché? Non ne idea Se si è rimpegnata E con chi? Con chi è rimpegnata? Non va bene Non va bene C'è la mente importante Su Seven Deadly Sins Eh Io Non Devo riscaricarlo Domani Quando Se arriva Il Il fisso Lo Lo rimetto Lo rimetto a scaricare Cioè Devo riscaricarlo Per forza Ma è arrivata Cos'è? Lilia Verde? C'è Lilia Verde? No Non ho n'idea Non ho n'idea Stellena Vorrei riuscire a risponderti Ma non lo so È un bisogno vitale Eh ti devi accontentare Ti devi accontentare Non va bene Hai visto Moccio? Le stelle così Le stelle così Cosa possiamo farci? Non c'è neanche discord Su sto computer Ragazzi E già tanto Sono riuscito A far Grabbare A OBS Team Viewer E collegare il telefono Con Team Viewer Dima Come si sblocca Lo stage? Per favore Me lo riesci a dire? Ci sei ancora Dima? Sei contento che sto usando Il tuo Yokai preferito Dio? Che ce l'ho proprio qua In team? Aspetta Aspetta Sta per uscire Escano Rosso E Meliodas Rosso All last way Dici che sei più forte Tra Meliodas Sembra esagerata Come roba Fiva Mo vediamo Vediamo anche Il suo energy Max Mo lo carichiamo Per bene Anche il pagliaccio Evento Hit Facciamo prima Hit Hit cosa fa? Hit picchia Tu cosa fai? Ah tu sei un booster? Ma porca miseria Ma non potevi caricarlo? E' veramente brutto Il calzino E' veramente brutto Brutto forte King del boost Ma poi che cosa mi sa significare? Che 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 coca che Mi ho un attimo incartato Cosa mi sa significare Quello Yokai? Dai no Non l'abbiamo sbloccato Però forse Si va dal 25 Attenzione Attenzione No Mattia A me non dà fastidio Il caps lock Magari in chat Qualcuno Dà fastidio Io Io sono favorevole Una volta avevamo Il caps lock Day Ufficiale Quella 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 era un bel periodo Vero dio Perché? Cosa è successo? Stellena Che avevamo il caps lock Day Ufficiale Che era Che era bello Come Come roba Eh Roba grossa Roba grossa Roba grossa Dai dai che si sblocca Please Sblocca Il livello segreto Neanche per sbaglio Fico Che caldo Che fa però Con la finestra chiusa Ai 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 Cara signora Longari Dov'è che mi è caduta La signora Longari? Lo sapete Dov'è caduta? Boom Secondo me Non lo sapete Non ve lo ricordate Dov'è caduta? Possiamo anche più giocare A dartstone Tu muori male? Yes Arrztone Prova vedere se Eh male Poi lo metterò Lo metterò sul gruppo Ale Non ti preoccupare Lo farò Se c'è qualcosa Che ne vale la pena Che serve per la niambo Lo farò Al momento Non mi interessa Non sto neanche guardando Gli yokai Se ce li ho Non ce li ho Guarda Siamo già Alla prossima slottata Siamo già Alla prossima slottata Dichi Dichi Stellina Dichi Ponga la domanda Poi non so Se per me O per la chat Tac 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 Succitra Fallo direttamente da Windows No Non fai prima Eh lo facciamo Lo faremo Lo faremo Come Come si faceva una volta Lo senti il verso Del calzino Si sente Ti piace Il verso Del calzino Guarda È il migliore Bellissimo Gli yokai calzino Dai facciamo il boss E torniamo a slottare Sei riuscita Stellina Vai Vai Eh Eh È tattico proprio Tecnico Tattico Ormai non mi ricordo più Stella Non mi ricordo più Mamma mia È veramente un aborto Sto yokai qua Ma perché hanno fatto Lo yokai hit Fanno ste porcate Ogni tanto Porca miseria Non è che ha capito Non so se metterci Direttamente Anche il triple S Al posto del Boh Non lo so Ok Ok E Sei svolta sulla tastiera Stella BAM Testata sulla tastiera Devo Vai tranquillo Luca Vai tranquillo Non ti preoccupare Comunque Benvenuto Devo riabituarmi Alla tastiera Non del portatile Porca miseria Quello è uno sbatti Non lo sbatto Allora guarda Spendiamo Ben novecento Per portare su Calzino Fai bravo Fai bravo Fai bravo E pure hit Pure hit Ok Portate su Cioè Possono andare su Adesso andiamo a slottare Ma qua non ci fa vedere Neanche le immagini Che palle Andiamo di là Oddio Senti che groove Adesso andiamo a farla Andiamo a slottare Luca Si è entrato Giusto In tempo Per la seconda Slottata Poi la prima slottata La ritrovi su Su youtube Ok Abbiamo slottato Già 20k Allora abbiamo Il doppio z Ci manca Da prendere Il doppio z Che ha 0,5% E Questo triple s Quello più in basso Ok Questo qua Ce l'abbiamo già E I doppi s Li abbiamo già Li abbiamo già presi Il pc nuovo Dovrebbe arrivare domani Stellina Dovrebbe Speriamo Portatemi in fortuna Dobbiamo trovare tutto subito Così Siamo già avanti Per il prossimo evento Tutte rosse Guardate Tutte rosse Abbiamo Pure una blu Dobbiamo trovare Il doppio z Dai Sto soffrendo Attenzione Portatemi in fortuna Intanto Segreti A profusione Vai vai Farma Farma Metal È la cosa migliore Nada Brutta Brutta slot Proprio brutta Sta slot Ma perché cosa Ale Beh è un'altra rossa Vabbè Dai Scusa Cos'è sta roba Ma cos'è sta slottata Cioè mi costa 4500 Sta schifezza Qui Dai Mariko Stiamo parlando Ah wow 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 Eh vabbè Per fortuna Che me le fate trovare Per fortuna 10 bin Speriamo Il mondo intero Ha già trovato Il doppio z Z A me basta trovare Anche il triple s Già Di slottare qua Eh boh Il doppio z Ti direi Ale Non te lo so dire Ancora Ancora non li ho provati Ancora non ce li ho io Questa è brutta ragazzi Tutti i b 4b Una Che non trova niente Forse troviamo un doppio s Guarda Ragazzi ma che predict vi ho fatto Sono scriptate Ragazzi Sono scriptate Ve l'ho già detto Ve l'ho già detto Va allora Eh non ce l'ho più Non c'è più nessun gioco Non c'è più nessun gioco Sono scriptate Sono scriptate Adesso trovo il triple s Guardalo lì Te lo dico io Triple s Forse nella rossa Senza offesa Dici No Secondo me no Secondo me me lo fa sudare Come nello scorso evento Guarda eh Triple s Ma anche qua è basso Tutti i b A Un altro b Un altro a Niente Triple Cosa avevo detto Sono scriptate Sono scriptate Cioè non ce n'è Eh boh forse si Stellina Forse si Ve l'avevo detto Sono scriptate Ste Slottate Non ha senso Non ha senso Non ha senso Ma come fai? Eh ma non mi piace quel tipo di gioco Moccio Poi già in fps Gioco a code Dove vanno gli esami? Vai tranquillo Luca Di terza media? Eh bella Bella genna Genarpo Benvenuto Grazie per il follow Sì si può farmare Genna Si può farmare Autoclicker Per ora Doppia z Nada Terza media Lo fai di morbidezza Luca lo fai di morbidezza Ne sono convinto Ne sono convinto Tutte rosse? No Sembra la musica di Di Street of Rage Dai Dai Fammi trovare qualcosa Boom Nada Doppia z Andiamo avanti con gli stage ragazzi Brutta storia Quanti sono Vedi 44 Tra l'ho detto Ho detto 38 44 Mese Quanto li facciamo veloci E poi torniamo a sfruttare Però ragazzi state qua Non andatevene Cioè dovete portarmi fortuna Non ho capito chi mi lancia Se ho capito ma Vabbè Ma lo levo questo Ah l'ha rotto Poverino Oh 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 Stella Dove vai? Non ci crediamo Moccio io Dobbiamo vedere Dobbiamo vedere Non va bene Non va bene Se ci abbandoni Non va bene Bravo 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 E se non lo manderai Te la mando io E tu la mandi a me Va bene? Eh si ricambia Stellina Si ricambia Oppure gioco a Valorant Ecco vedi Vedi? Vedi? Visto? Oh Driberto Grande Driberto Numero uno Il solo e l'unico Il solo e l'unico Driberto No devi Devi documentare Devi documentare Non ci fidiamo Vediamo se fai le cose per bene Perché ti conosciamo Very good Very good Very good Non so se prendere gli schiaffi E fare con Rinne Oppure Oppure fare il pagliaccio Adesso aspettiamo Rinne Perché se ne rompiamo uno Di Rinne Facciamo un disastro Si si documentario Documentario Lo vogliamo su National Geographic Ma perché poi Quando mandi la foto Si vede su Su Telegram Arriva Io apro E poi manda me Moccio Poi manda me Mi raccomando Anni e anni Di esperienza Io riuscivo a farmi Mandare le foto Anche con gli squilli Ai tempi degli squilli Ce l'hai capito? Ma che ne sapete Voi che siete Del 2000 Degli squilli Delle squillo Con gli squilli Ma che ne sapete Allora dai Boom boom Bam Il calzino Lo calziniamo di lì Tutti i carichi Sberle Sberle grosse Con Rinne Poi Fai così Sbam Sbam Boost Takao Peccato che non fa Tanti danni Takao E jibanyan Wow Mini sasha Abbiamo preso Ragazzi Mi bannano Con mini sasha Mi bannano Cavoli Io voglio Finire di slottare Subito Alla prima ora Niente Però Ho già passato Un'ora Ho già passato Un'ora Un'ora e otto Di cosa stiamo parlando Adriana 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 Ma è caldo Che fai Sto angolino Qui Allucinante Eh ma mi fai vedere Quanto è Ok 13 adesso Boom Ingrandisci Arrivo Eh ma non posso Non posso Non si può C'è A parte Twitch Poi anche Youtube Non riesco a caricare Il video Ed è un peccato Eh 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 Voglio sapere Tutto sullo Yokai calzino Sono proprio Curioso Eh Sì Sì Ascoltati Spotify Quello blu è potentissimo Ma Takao Dici Ale Ma Medio Dai Medio Medioforte Secondo me Vabbè che ci sono affezionato Abbiamo Undici livelli Da fare Tanto li facciamo veloci E poi isolato tutto 100k Porca miseria 100k Allora Allora Però è bello forte Takao Eh Ieri su Su Instagram Mi è arrivata Una Una pubblicità Delle mini 4VD Ma ci Esistono ancora Le mini 4VD Non ci credo Cioè mi sembra Molto strano Niente Tutti qua Facciamo Rin Le mini 4VD Bo Finish Voglio vedere anche Come Come l'impossible Se è davvero impossible Magari No Sarà solo impossible Sto pensando se c'erano I sigilli Magari da sbloccare No Non credo Turututuruturuturuturuturuturutur Eccolo lì L'ho detto Vai bella Ci sono due impossible Eh ma sarà Quello per Grazie Dio Ci sentiamo Fai il bravo Ci sarà quello Per il Per lo yokai E quello Per la skin Giusto La vedo così Ah Cioè che prendi Il triple S E lo Z Nell'impossible Figa come roba Mi piace Mi piace Q del Nokia E cosa ti ho messo Della Nokia Il 3310 Compra il 3310 Così riesci a leggere Quanti messaggi Tipo potevi tenere 50 messaggi 50 messaggi Potevi tenere I tempi Mamma mia Tu pensa Ma invece Moccio Tu hai capito Come funzionano Gli sms 2.0 Di google Perché mi sembra Una roba interessante Ho detto che non tutti E google Vuole competere Con whatsapp Telegram Così E ha E ha creato Questi sms 2.0 Gratis Completamente gratis Però Non ho Ben capito Perché leggevo Che non tutti I provider Li 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 supportano Diciamo E non ho Cioè Cosa vuol dire Cosa vuol dire Sembra Sembra una roba interessante Vabbè Ha le stesse caratteristiche Di Di whatsapp Credo Neanche di telegram Di whatsapp Bisogna Studiarselo Finalmente Puoi cercare Le cose Scritte Nei messaggi Eh ma Infatti Io capisco Se mi avessero Fatto una roba Che superava Telegram Che essendo google Magari la gente Iniziava a usarlo Magari Ti fanno Le pubblicità A destra e a manca E magari Ti capita Di provarlo Però Eh già telegram Devo dire Che i ragazzi Giovani Lo usano Telegram Sì 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 Ogni tanto ci provo Eh dai telegram Nessuno sa che cos'è Ma come disco Cioè se non sei sul pezzo Non ci sei Non ci puoi fare niente Ehi Perché non l'ha fatto Ren Però scusa Va associato Va associato Al numero L'account di telegram Giusto Però poi non lo vedi Puoi decidere Di non mostrarlo Ok 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 Pio 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 Chi è che c'ha il bonus punti Il triple S o lo Z Paraparaparaparap Oh oh Dai fammi Yin veloce e ci sono i difetti su che cosa ok Rin io uso te tu sei già carico molto bene molto bene mamma mia qua facciamo i disastri qua facciamo un po' di punti niente non me ne da più sei un maledetto lo fai così adesso vado in fiber con te così impari ok carichiamo un po' il triple s da più punti c'è il triple s ok vai così no non ce ne da più non da più scatole guarda che maledetto che giocaccio ma dici ma no chi ha le o telegram onigo to cos'è un cheerful coin un cheerful coin 26 punti vai non male dai sono trovati a 49 e comunque se fai in media 20 punti a partita cioè te ne fai di punti 500 partite 20 punti ragazzi eh piuttosto che niente ma è piuttosto ah è una nuova cosa di google ok eh magari devono migliorare il servizio non lo so eh lo leggevo ieri cioè tipo fino a ieri non so neanche che esistesse secondo voi mi arrivano le robe domani secondo me secondo me la mattina possiamo già montare bello il mio case bianco della cooler master papapapaparava 39 sono già quasi alla fine siamo stati dritti veloci è incredibile è incredibile amici siamo a un follower da 2700 ragazzi siamo a 2699 molto bene ma tu moce sei ancora preso bene con con valorant ci sei ci sei già sotto ah ok ti sei un po' tranquillizzato pokemon lo farai il dlc perché non ci gioca più stellina ti hai abbandonato ma si fa così eh vabbè ma è un gioco dove tilt è normale è normale è normale più che altro è un peccato che che portarlo su twitch cioè non porta niente non porta niente hai la 80 quindi tra data 80 cos'è samsung giusto ora che siamo tutti lì suddivisi nei vari livelli siamo quasi alla fine tutti quanti eccolo lì eccolo lì proprio lui proprio lui eh quindi adesso cosa giochi sei tornato a giocare a minecraft o ad animali e crostini ti sei preso bene con animali e crostini ah io questo lo faccio rompi tutto adesso ti rafforrerò con lo grosso ok niente se andate non serve oggi su minecraft ma scusa ma minecraft dungeon non l'hai provata alla fine non ti piace ho detto che tra poco fanno fanno un aggiornamento eh dovrebbero mettere più robe eh vabbè ma quel tipo di giochi lì l'ho detto subito devono supportarlo devono supportarlo devono metterci nuovi oggetti nuovi mondi devono fare tipo diablo eh vedi vedi è un'isola 5 stelle lì diablo ha messo i varchi i varchi nefilim che quando quando lo finisci puoi fare sti varchi qua e scegliete la difficoltà ovviamente trovi oggetti sempre più forti ed è per quello che è bello diablo cioè nonostante il 3 non sia chissà che cosa ah sì metal condivido condivido io ho fatto l'ho finito solo una volta io mi do solo una volta perché mi prendo bene con sti giochi qua io devo fare tutto devo trovare tutti gli oggetti prima di andare avanti voglio vedere il set me li voglio studiare e mi fa vedere la cassa lì maledetto gioco è vero è vero le mappe sono sempre sì ogni tanto cambiano però di quel livello ci saranno 4 mappe in un'ora già giocate tutto tieni conto che adesso con il set che ho con il set che ho metal che è un set di livello 20 posso fare livelli al 40 talmente è forte mi sono straverso bene e vorrei trovare lo stesso set però più più grozzo e non ancora non lo trovo cosa ci fai telly ti ho ovviamente sì io non capisco perché ogni tanto missa il lock qua il click boom fai così facciamo così bam preso ah no ma anch'io ci rigiocherò eh se mai avrò un computer me lo auguro l'abbiamo uccisa quella no molto bene allora facciamo così rompiamo un po' battle royale andiamo in fever rompiamo un po' ma io non lo so al momento non lo so più che altro che vorrei giocare a fight simulator che lo metteranno sicuramente sul pass quello è tanta roba ti prego rompimeli ok vabbè it's over meno male allora alan wade ti consiglio di giocarlo se non l'hai giocato è un gioco da 8 ore di storia proprio tranquille però è molto bello l'altra volta l'avevo portato in live e ci siamo presi bene non me lo ricordavo non so se faccio bene a portare su loro devo vedere tutti i bonus 51 punti qua roba grossa cos'è la fine what ah ok ha 45 stage guarda ogni mezz'ora ho slottato ogni mezz'ora ho slottato è perfetto perfetto e poi mi sarebbe piaciuto fare un reaction su su ps5 tu come come la vedi moccio che dici ti piace non l'hai vista non hai visto niente no però giusto per io ho io ho una speranza ho una speranza sul fatto che hai ragione i giochi costano ok non andiamo in fever un po' ci manca ok ah ok non ti interessa io qualche gioco qualche gioco lo vorrei giocare potevo mettere il bonus punti però vabbè non l'ho fatto ormai lo facciamo adesso spacca tutto vediamo se riusciamo a caricare qualcun'altro anche perché se costerà porca miseria una fucilata e mezza se davvero dai 500 ai 700 euro io probabilmente la prenderò lo stesso al di one ma perché io sono malato un'altra 50 nonostante il pc che mi son fatto vale molto di più molto di più costa anche molto di più 44 e ma lì secondo me le console vanno avanti per la comodità per la comodità di non stare dietro al computer sai componenti una volta era anche il fatto di scaricare il gioco sai prima avevi il disco lo mettevi lo dovevi caricare tutte le robe così ed era un po' sbatti a parte che adesso nel momento in cui compri un gioco c'è sempre una patch al day one una patch di tipo 100 giga quindi boh non so se è ancora quello il discorso da fare però che costano troppo è vero troppo troppo senza senso perché ancora non l'ho fatto caro e tacao allora facciamo così entriamo in fever poi quello ah no beh è vero no dicevo prima magari diciamo per per la famiglia era più comodo metti il disco e giochi però adesso non è più neanche così non è più neanche così perché c'è sempre la patch quindi devi scaricare e poi in base alla connessione che hai giochi prima giochi dopo abbiamo perso due punti abbiamo perso abbiamo perso due punti però siamo quasi siamo all'ultimo livello siamo al boss si aprirà l'impossible sì sì prima prima sì sì io 100 giga ci metto niente vado a 100 vado a 930 cablato scusi ci metto niente dipende dal server ma tu sei che bello ma sei trisalamandra che bello sto trisalamandra bellissimo bellissimo sto trisalamandra vado vado ma anche con 200 cioè ci vai di morbidezza si sente la musica sotto perché sennò muto se non sente la musica sotto muto ah sì quello è ancora più veloce vediamo se riesco a non ammazzarlo ok facciamo così dai ma quelli lì no non me li ha rotti maledetto comunque abbiamo perso altri altri follow prima ne mancava uno adesso ne mancano due non so chi ma non c'ho sbatti di controllare visto sul gruppo telegranchi siamo siamo sempre di meno fammi vedere qua cosa c'è ah qua questo è l'impossible ok bellissimo lui sto ok è bellissimo cambiamo questo sicuramente prendiamo delle sberle incredibili micci sanci lui non mi piace tanto però forse doveva mettere proviamo a farlo vediamo di là che cosa c'è aspetta un attimo cosa c'è di qua ah ok lui è doppio ah questo è lo z che ci manca e si può catturare andiamo dietro vediamo vediamo a slottare posso catturare secondo me ci fa ci apre in due ci apre in due vediamo un po' no fa male fa troppo male te lo devi studiare per bene dobbiamo studiarcelo metal guarda guarda che non abbiamo levato niente no dobbiamo andare a slottare secondo me ci vuole il doppio z ci vuole comunque non ho visto quanta vita andiamo a provare andiamo a provare lo z qui boh chi lo sa forse ci manca solo lo score attack non te lo so dire allora lo z non ha restrizioni adesso vediamo subito la vita così a caso con stati in qua lo z ha 263 mila non ho ben capito ma perché non me non me li linka per bene fa malino eh ragazzo andiamo ha levato un terzo ha levato un terzo ha levato un terzo un ragazzo qua però vabbè non era il team ma tutte le robe lo sapete adesso ti dico quanta vita ha il triple s triple s 208 mila ok ok non ho capito se ti abbassa sempre ma qua non linka per bene brutta storia siamo già morti siamo già morti siamo già morti what boh andiamo a slottare così così vi lascio liberi mi portate fortuna per queste ultime slottate e poi mi studio mi studio il team che secondo me non è tanto sbatti il team devi solo capire perché più o meno sarà quello più o meno sarà crystal barbombella perché è utile toglierei magari gli ultimi due più a destra boh ce li studiamo vai andiamo perché non ho visto neanche le tribù dei nuovi yokai eh vedi vedi secondo me il triple s o il doppio z sono utili vabbè ma l'autoclicker lo metti da un'altra parte magari ti droppa sempre segreti come al solito se vai nell'impossible oppure devi iniziare a prestare Natsu oddio ma quant'è che non la vedevo quella bella sta slottata grazie gioco mi è piaciuto mi è piaciuto un sacco io come l'impressione è che non lo troviamo mi fa buttare via 100k così guarda maledetto ah ok non l'aveva trovata da un po' invece adesso l'abbiamo già trovata molto bene un pass il pass per curiosità quanto ha di drop rate 0.5 sei simpatico sei simpatico gioco molto bene posso farmi trovare a posto di farmi trovare il doppio z daje ok molto bene partiamo dall'alto ok b a stai sull'a torna sull'a brutto questo è basso questo è basso questo è basso triple s nella rossa a z z niente mi potrei dare quell'altro le triple s almeno me lo levavo di torno maledetto aia b normale che sia un b lì a torna su a stai su a sono tutte basse ragazzi sono tutte basse ok ok doppio z doppio z ok l'altro triple s ce lo siamo tolto bene fammi trovare subito il doppio z please nada nada andiamo cos'è 30k non so se tenerli ma dobbiamo prenderlo se non c'è stato quel cacchio di pass dai non farmi andare a zero please please boom doppia s boom maledetto ci stiamo riempiendo di segreti ci stiamo riempiendo di segreti era da un botto che non scendevo con così pochi punti eh un botto cibo niente non c'è anche voglia di andare a mangiare Anaki qua ci deve essere mastic maledetto dai 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 non farti pregare please lo sapevo lo sapevo è battuto la stage del triple s manda poi il team bin usati i bonus dai boom sei un gioco maledetto sei un gioco maledetto qua non troviamo il doppio z qual è il triple s bin sapete che io non credo ai rate up lo sapete eh perché tu sei forte di cosa stiamo parlando santo deo mo li maxo tutti quanti ma avete rotto mo li maxo tutti spendo tutti i punti tutti i money mi faccio segreti e li maxo tutti e li maxo tutti quelli che sono nella slot è brutto quando c'è la blu s a b b b b b a ragazzi ne abbiamo ancora due che brutto vedere così pochi punti bella fra vai tra siamo quasi alla fine ancora queste due slottate e poi chiudiamo chiudiamo senza z senza doppio z che tristezza brutta storia dai sì sì ragazzi sì che ce l'abbiamo fatta dai li abbiamo tutti anche a sto giro li abbiamo tutti mamma mia ce l'ha fatta sudare abbiamo speso quasi tutti i punti solo una multice è rimasta gioco maledetto mamma mia mamma mia tra l'altro è strabello è strabello sto yokai è strabello boh ragazzi un'ora e 43 io direi che chiudiamo qua mi raccomando quando uscirà il video su youtube like non so quando uscirà perché mi servirà il computer e spero che arrivi domani perché quindi portatele di mio padre non ce la potrò mai fare a scaricare montare tutto quanto vediamo se riusciamo a fare una live domani mattina se riusciamo a supportare la scheda d'acquisizione se no anche domani salta bel problema bello sbatti comunque ci aggiorniamo va bene grazie grazie per avermi fatto a compagnia bella lì fate i bravi alla prossima ciao ciao non lo so genna non lo so se funziona la scheda d'acquisizione l'unica cosa che posso fare è Animal Crossing o Pokémon è l'unica cosa e spero di avere il pc per domani notte per fare il DLC di Pokémon ci provo ci vediamo alla prossima comunque ti arriva la notifica vedi un po' se c'è qualcosa che ti interessa va bene ne ho vissi dei giochi ma come puni puni alla prossima ragazzi ciao 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 Economy Grazie a tutti.